Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in otto anni. Sono l'autore del blog diventeromilionario.it e del podcast diventerò milionario on the road oggi per fare un esperimento. Siccome volevo presentare il canale YouTube sul podcast con un episodio, ho detto come fare. Ci ho pensato un po' e poi ho detto ma perché non facciamo un video mentre registro un episodio del podcast e così spiego come funziona Anchor e come funziona fare podcast con Anchor, che in realtà è una cagata però potrebbe essere divertente. Allora, iniziamo. Questo video potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento da DHL che dovrebbe arrivare, ma per ora non lo sta facendo. Quindi andiamo a iniziare. Allora, vi presento Anchor, questo è il mio cellulare fantastico, Anchor. e 22 sono gli episodi, i plays, le riproduzioni dell'episodio ultimo, ovvero 208. Se clicchiamo su, che non vi dico numeri inventati, magari voi pensate, clicchiamo su Your Podcast, vedete? E lo sta caricando, lo sta caricando. Oh, il corriere, giusto detto. Ovviamente è arrivato in questi dieci minuti in cui sto registrando, ma non c'è problema. Sapevo che avrebbe chiamato perché due case vicine hanno lo stesso numero civico. Quella dei vicini è prima, quindi si ferma sempre da loro, i pacchi li lasciano andare. I ritiri, per esempio, è un problema, ma abbiamo risolto. DHL è sempre molto attivo, consigliatissimo, se le vendete su ebay, spedizione espressa DHL, non ve ne pentirete. Tornando a noi, nel frattempo si sono caricate le statistiche di Anchor, come vedete non c'è menzogna, 9300 ascolti, 33 sono le persone stimate dell'audience. E qua potete scorrere in giù, vedere tutti gli episodi, sono parecchi, e sono in realtà, qua vado ogni volta che nel podcast, dico, aspetta che vado a vedere a che episodio sono arrivato, vado qua, sono la 208, ok, soldi presi, vamos. Adesso noi clicchiamo qua, non so neanche se questo episodio ha senso, però mi piaceva l'idea, tra l'altro sono illuminati in maniera abbastanza bizzarra. E andiamo qui, clicchiamo sul più, abbiamo il riepilogo dell'ultimo episodio fatto, 22 ascolti. Andiamo qui su New Episode, clicchiamo sul più, visto qui, tac. Adesso me lo fa immediato, quando registro per strada di solito sta, ho una vita o non lo fa e devo rifarlo, o chiudo e riapro e ho tre episodi nuovi, quindi vabbè, succede. Clicchiamo qui, su questo più, e qui possiamo scegliere se registrare, scegliere dei file della libreria, oppure dei suoni, qua possiamo ascoltare i suoni, suoni un po' così. Però quello che interessa a noi è il record, giusto per dire che registrare un podcast è assolutamente alla portata di tutti, ne sono la dimostrazione io per primo. 9.300 ascolti da fine agosto, settembre, ottobre, noveme, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Clicchiamo play e parte la registrazione. La figata qual è? Che voi mi vedrete registrare, chi ascolta non sa che sto riprendendo. Alla fine dichiarerò, ah, se volete, ah, scherzone, potete andare a vedermi mentre registro. Vabbè, è solo una volta, non è che faccio sempre perché sarà una rottura di coglione anche per voi. Quindi, pronti? 3, 2, 1, via! Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Oggi episodio innovativo e lo scoprirete alla fine perché però non andate alla fine subito, se no vi rovinate una sorpresa che potrebbe essere boom, proprio mind-blowing. Quindi per ora continuate l'ascolto e faccio un segmento. Se cliccate sulla X fate un segmento, quindi potete mettere in pausa la registrazione in sostanza. I segmenti possono essere salvati. Add recording, se no con la X lo cancellate. Il primo vi chiede, siete pronti per pubblicarli? Diciamo di no. Farò il contrario, un casino. In questo caso, alla fine vedremo che avremo più segmenti. Potremmo anche aggiungere lo sponsor end segment che uno dice, così monetizzo. No, funziona solo negli US e negli Stati Uniti, quindi ciao. Vabbè, che le pubblicità di podcast mi annoiano un po'. Mi annoiano come quelle sui siti, top, proprio una merda. Però questi non sono ancora pronto per farlo. Vabbè, continuiamo. Magari accelererò il video. Non è vero, non lo farò perché non ho voglia di farlo. Attualmente non so farlo, imparerò. Però non l'ho fatto. Pronti, attenti? Via. Ah, non sul più, giustamente mi dice cosa vuoi aggiungere. Vabbè, facciamo l'aggiunta, aggiungiamo un bling. Clicchiamo sul più qui. No, ho cliccato su un'altra cosa. Sul più. Diciamo, aggiungi. Mamma mia, sto... Fotocamera del Mac è un po' così. Aggiungi. Aggiunto. Torniamo qua, nella lista dei segmenti. Abbiamo un messaggio. Mettiamo in modalità... No, mettere in modalità non disturbare. Ovviamente la prima volta che lo faccio, quindi ci sta. E abbiamo due segmenti. Il segmento di introduzione e il segmento col bling. Quindi possiamo mettere play e ascoltarli. Adesso continuiamo. Ho messo pausa, sono andato a vedere il corriere di Achele ancora qua fuori che sta controllando i miei pacchi. Neanche spedisci armi nucleari. Sono tre Lego. Vabbè. Comunque, riprendiamo la registrazione cliccando sul tasto più. Mi dice cosa vuoi aggiungere. Voglio aggiungere un record, quindi una voce mia. Clicchiamo. Pronti, attenti. Via. Oggi rispondiamo alla domanda di... Alla domanda in realtà. Alla mail di Marco che mi ha inviato ieri sera. Intanto mi ha proposto una collaborazione su come capire... Collaborazione. Marco capirà cosa sto dicendo. Su come capire e come studiare i bilanci. Cosa molto interessante che quando avrò tempo di controllare e di guardarci potrebbero venire fuori molti articoli o episodi del podcast interessanti. Quindi ben venga. Tra l'altro mi ha detto ti offro questa... Condivido questo sapere con te per ripagarti di tutto quello che fai con noi. Quindi gran, gran, gran roba. Grazie mille Marco. Perché chi dice che i soldi sono tutto. Anche la conoscenza... Cioè anzi, la conoscenza è tanta, tanta più roba. Quindi grazie mille Marco. Però nella mail lui mi diceva... Fate un altro segmento. Vedete che i secondi vanno su. Qua posso aggiungere un background music. Posso fare un sacco di cose. Con l'X posso cancellarlo. Adesso riprendiamo. Quindi add. Adesso ne ho tre. Ho i miei tre. Faccio sempre più. Via. Nella mail lui diceva che... Che si complimentava per la mia positività e per il mio ottimismo. In realtà non è vero che sono né positivo né ottimista. Sono un pessimista realista. Cosa vuol dire? Vuol dire che... Come sapete... Forse non lo sapete perché ancora non l'ho detto nel... In questo video. L'ho detto nel primo video che però non so quante persone vedranno. Ho l'obiettivo di raggiungere i 10.000 euro entro fine anno. Quindi entro il 31 dicembre 2020. E i 100.000 euro entro il primo giugno 2022. E il milione di euro fra otto anni. In realtà va a far sette e mezzo. Quindi siamo nel 2020. 2020. Vabbè non voglio far conti. Che poi magari sparo tranzati. Intanto concentriamoci su questi due traguardi. Anzi. Concentriamoci sui 10.000 che sono molto più incasinati. La... E nulla. Quindi mi sono dato questo obiettivo. Ma perché? Perché stavo vedendo che tutto mi stava sfuggendo di mano. Cioè avevo l'obiettivo del milione. Fra otto anni c'era... Ah, credo che c'era otto anni. Non ho una laga di tempo. Non sono appena passati due. Poi ce la farò figurati se qualcosa non mi viene in mente. Beh però il tempo corre. Il tempo corre e non aspetta. Quindi piuttosto che trovarmi in braga di tela fra sei anni. Ho detto... Vi do un obiettivo che è difficile. Ma assolutamente raggiungibile. Vi aggiorno sul fatto che il corriere sta... Il corriere di Achelle sta uscendo adesso dal cancello. Non so cosa abbia fatto finora. Vabbè. Assolutamente raggiungibile. Però spaccandosi e sforzandosi. E facendo un sacco di cose. Di cose. Come già detto. Con lo stipendio non riuscirai a arrivare a quella cifra. E non ho anche intenzione di vestirlo tutto il più possibile per arrivare a quella cifra là. Piuttosto compro strumenti quali... Videocamere. Luci. Perché adesso sembro un fantasma. In realtà sono anche... Abbronzato più di quanto avrei creduto. Perché... Con i giri in bici mi abbronzo. Però questa lampada un po' mi... A parte che mi sta ceccando. Insomma tant'è. E... Ho detto lampada. Perché ho detto lampada? Lo scoprirete dopo. Lo scoprirete fra pochi minuti. E... Vedete? La stronzata è che... Adesso ho fatto un segmento. È che parlando e guardando... Mi so che sto facendo un video. Non mi rendo conto che la gente sta ascoltando. Quindi... Questo episodio del pod... Magari quello del video verrà anche interessante. Non lo so. Me lo direte voi. Quello del podcast diverrà un po' una... Forse è una cafonata. Da capire. Insomma me lo direte voi. Anche quello. Ad recording. Facciamone un altro. Tanto lì puoi fare l'apploat. Non mi è mai successo di perdere episodi. Far niente. Qualche segmento scima per colpa mia. Alla fine ho scoperto. Quindi... Andate tranquilli. Quello che... Quello che registrate... Ve lo... Ve lo conserverete. Ah una cosa. Quando registrate... Se registrate tipo in macchina. Togliete il bluetooth. Perché la qualità audio del bluetooth è orrenda. Non sono neanche sicuro. Scusate. Ha passato il gioco di HL. Ma non so a che giro abbia fatto. No. È giallo. Quindi mi distrae. Qualità audio pessima bluetooth. Ho comprato anche un paio di cuffie. Ne ho parlato in un episodio di podcast. Pessime anche quelle. Quindi per ora mi... Mi tengo buono questo iPhone 5... No. iPhone S il primo. Non il nuovo ovviamente. Che ha la qualità audio decente. Rispetto anche a altri podcast che ascolto. Quindi non posso lamentarmi. E... Vado. Riprendo. Non so. Ho perso il filo. Quindi verrà veramente un episodio del cazzo. Ma come molti. Ah. Sono già ripartito. Ragazzi. Questo episodio è una cozzaglia di cose. Ma fra pochi minuti appunto capirete perché. Forse avete aspettato già qualcosa. Comunque. Dicevamo. Io sono positivo e ottimista. Secondo Marco. Magari secondo tutti voi. Mi vedete. Dicevamo. Cioè quella ci crede proprio tanto tanto tanto. E speriamo che ce la faccia perché si crede tanto. A parte che crederci non basta. Perché come vedete. Si fa sempre qualcosa di nuovo. Tra blog. Poi il podcast. Poi il ghost post. Ghost post pronto ragazzi. Tatata. Pronto. E parte. Domani lo stampo. Lo stampo. Ho detto lo stampo. Eh sì. Perché lo stampo. Non si sa. Cioè chi lo riceverà assal. Perché. Chi se l'è perso. Lo scoprirà. Sì dai. Anche se ho detto tanto. Non riesco a fare. A creare molto. Molta aspettativa. Però ma tant'è. Ehm. Quindi ghost post. Adesso il canale YouTube. Ma perché veramente. Cioè oltre a crederci. Io voglio smazzarmi per farlo. Perché. Quell'obiettivo. Lo voglio raggiungere. Non voglio lavorare da dipendente. Per tutta la vita. Ma neanche per ancora. Tantissimi anni. Anche perché. Cioè lo stipendio è veramente misero. Rispetto a quello che. Quello che ritengo sia il mio. Valore. A parte la modestia. Ma va detto. Cioè se uno crede di essere un po' meglio. È giusto che. Che tenda a essere meglio. Sia come persona. Quindi studiando. Giurando. Sia come quello che. Vuole ricevere. Dando. Quindi. È tutto un giro. In realtà più si fa. Più si ha voglia di fare. Più si fa. Più la sera stai là. Guardi sfrazzi. Meno hai voglia di stare sul divano. Guardare YouTube. Netflix. E dici. Sì. Ma sto buttando via le ore. Io. Cioè voglio costruire qualcosa. Che sia proprio speciale. Quindi. Tornando sempre al discorso della positività. Sono positivo. Più che positivo. Sono certo di quello che avverrà. Ovvero del fatto che raggiungerò il mio obiettivo. Del milione. Negli otto anni. Dei diecimila. Da vedere. Anche perché appunto. Comunque diecimila. Non lo sto abbandonando. Assolutamente. Rimane sempre un obiettivo fisso. E. Come detto. Costruiremo un Lego. Quando lo raggiungerò. Però. È appunto. Una cosa che devo tendere. Se mi crea una rendita. Ad esempio. Col canale YouTube. Se mi crea una rendita. Che mi fa guadagnare. Mille euro al mese. Solo da quello. Boh. Anche se a dicembre arrivo a otto mila euro. Io comunque sono. Sto decollando. Arriverò a centomila. A fine duemila e ventuno. Invece che a giugno duemila e ventidue. Quindi. È tutto relativo. Lo spronamento è. Muovere il culo in sostanza. Perché star seduti. È brutto. È male male male. Quindi. Quindi quindi. Non sono appunto. Positivo. Sono realista. Voglio farcela. Ce la farò. E soprattutto. E soprattutto. Ragazzi. Parliamoci seriamente. Su YouTube. O su Instagram. Quante persone vedete. Ricche. O benestanti. O che ce la fanno. Che sono persone. Che voi dite. Ma come. Come cazzo. Fa quello là. A farcela. E io sono qua. Perché lui si fa il culo. Lui. La sera studia. Sembrerà sfigato. Magari lo è. Non lo so. Non voglio giudicare. Non mi interessa. Perché mi fa perdere tempo. Però. Lui si fa il culo. Cioè. Sei là. Sei su YouTube. Sei al podcast. Sei a un blog. Sei a fa tutorial. Vuol dire che lui. Quando è a casa. Lavora. Per gli affatti suoi. Se non lavora. Si smazza. Fa il culo. Appunto. Cerca prova. Briga. Crea l'audience. Crea contenuti. Che non è per niente banale. Quindi. Rispetto. Si rispetta. Uno sfigato. Che ce la fa. Il termine sfigato è brutto. Però. Insomma. Una persona che vediamo. Che ha meno doti di noi. E che ce la fa. E questo. È un bel problema per noi. Perché vuol dire che se noi ci mettessimo. Anzi. È un bello sprone. Perché se vuol dire che se noi ci mettessimo. Nella sua situazione. Ce la faremo due volte. Due volte meglio. Due volte più in fretta. Quindi. Questo è quello che mi spinge a fare tutto questo. Non è ottimismo. Non è pessimismo. È realismo. È il fatto di volercela fare. Il fatto che gente. Peggiore. Peggiore. Gente che ritengo. Beh. Vaffanculo. Gente ce la sta facendo. Gente non ce la sta facendo. Io ce la. Ce la stare facendo. E. E quindi seguiamo questo percorso man mano. Adesso ragazzi. Metto in pausa. Un attimo il podcast. Faccio un segmento. E poi vi dico. Vi sgancio la bomba. Messo in pausa. Segmentino. Se segmentino. Mi ero ritrovesso di non dirlo più. Ok. Adesso andiamo a sganciare la bomba. Quindi. Andiamo a dire. Che potete. Il video sta sfarfallando. Spero di stare finendo lo spazio in memoria. Salvo. Adesso ragazzi. Vi annuncio che ho il canale YouTube. Uuuu. Uuuu. Annuncio anche gli obiettivi del canale YouTube. Che non stiamo qua. A sbucciare le banane. E a pettinare le mambole. Come diciamo noi. La bomba ragazzi. È che mentre sto registrando questo episodio del podcast. Come sapete. Il giovedì. Sono. Sono a casa. Ah non. Vi ho neanche detto. Sono le 13.14. Di giovedì. 4 giugno. L'episodio 210. Mi pare. Ovviamente mi dimentico sempre di guardare. Prima di registrare. E quindi. Ci direi 210. E. Sto registrando anche un video su YouTube ragazzi. Vedete come creo aspettativa. Faccio le cose fighe. Che proprio ti fa venire la collina in bocca. Di dire. Ah. Adesso vado a vedere. No. E quindi. Sto registrando questo video. È un tutorial su come fare un episodio del podcast con Anchor. Vi ho sfruttati. Sfruttati. Tra virgolette. Per. Per spiegare. Quindi ho registrato questo podcast. Ogni tanto. Quando facevo un segmento. Lo facevo per parlare al video. Di modo da non far capire che fosse un video. In realtà l'avete capito. Perché accennavo delle lampade. Tant'è. Però ragazzi. Vi dichiaro che ho aperto il mio canale YouTube. Questo è già il secondo video che faccio. Il primo è. Vorrei dire brutto. Ma sarebbe limitativo. Ma sarebbe sbagliato dire. Cioè sarebbe strano dire. Che il mio primo video è una figata. Vuol dire che. Veramente. Cioè. Non si fa. Il primo video deve fare cagare. Come il primo episodio del podcast. Il primo. Il primo post del blog. Quindi. Non mi preoccupa la cosa. Miglioreremo pian piano. Ma perché miglioreremo pian piano? Beh. Venite a scoprire sul video. Quello che devo dirvi. Adesso. Metto giù. Ragazzi. Buona. Buona continuazione. Il mio canale YouTube. Allora. Iscrivetevelo. Perché. È difficile. Si chiama. Diventerò milionario. Battuta. Ha ha. La risata. Aggiungerei il rumore della risata. Ma non ho voglia. E quindi. Canale YouTube. Diventerò milionario. Diventerò milionario. Vi aspetto lì. Dove dichiaro gli episodi. Gli obiettivi. Ci vediamo ragazzi. Sono Giacomo. Diventerò milionario in otto anni. E ci vediamo sul canale. Stoppiamo. Facciamo un save. Add recording to episode. Ok. Ce l'abbiamo. Abbiamo tutti i nostri segmenti. Tenendo premuto. Possiamo riordinarli. Ok. Se teniamo premuto sul segmento. Possiamo riordinarlo. Così. Se tipo. Alla fine. Mi accorgo di aver fatto una stronzata. Una volta. Mi è successo di aver. Lasciato acceso il bluetooth. Per un segmento. Quindi ho. Registrato alla fine. Un segmento. Dove dicevo. Che una parte dell'episodio. Si sentiva male. L'ho registrato. L'ho trascinato in cima. E bon. A posto che ci siete partiti. Ascoltando. Quel segmento là. Amen ci sta. Oppure. Se volete mettere interludi. O cose del genere. Potete anche importare. File mp3. Non è nessun problema. Io ho fatto un'intervista. A un ragazzo di Fiver. Con. In questo modo. Gli mandavo. Gli audio. Via whatsapp. Gli rispondeva. Gli salvavo. Gli importavo. Comunque. Si può fare. Tutto si può fare. E' gratis. Non c'è nessun costo. Ma non aggiungerei null'altro. Ma probabilmente voi l'avrete in italiano. Io l'ho in inglese. Perché è un retaggio di quando eri in Canada. Publish. Qua dovete inserire. Non so se si vede. Il titolo dell'episodio. Una descrizione. Andate in giù. Mamma mia che male che si vede. Ma insomma. L'episodio. Il numero dell'episodio. E la stagione. Io sono sempre alla stagione 1. E boh. Lo faccio dopo. Adesso finisco questo video qua. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è. Di arrivare a far sì che questo canale inizi a viaggiare. Molto. Molto. E molto presto. Quindi. Andiamo a prendere il quadernetto. Scriviamo due cifre ragazzi. Questo è il mio. Al mio planner. Che vi dicevo. E' questa cosa qua. Quadernetto verde della pigna. Perché è quello. Che ho comprato. Ancora fermo a Milano. Allora. Zang zang. Questo è il numero di video. Che mi sono. Imposto di fare. Entro il 31 dicembre. Al. 31. 12. 20. 20. Zang. Non so se sono dritto o se sono storto. 80 video al 31. Vabbè. Penso sì. 80 video al 31. 12. Per un obiettivo di. 1000. Iscritti. Al 31. 12. Zang zang. Questo ve lo firmo. Guarda. Tac. La mia firma. L'ho dichiarata. Sto peggiorando sempre. Fra un po'. Arriverò veramente a fare uno sgribizzo. Poi. Via dritto. Così tutti potranno firmare. Assegnano. A me mia. Assegni che tanto. Punto non conto vuoto. Quindi non è problema. Quindi. Questo è l'obiettivo. 80 video. Entro fine dicembre. Ho fatto dei conti. Vuol dire. 3 video al giorno. 3 video al giorno. 3 video a settimana. Sarebbero 90 video. Perché mancano 30 settimane. Partendo dal lunedì prossimo. Probabilmente qualche giorno salterà. Perché a dicembre lavorerò come una merda. Non avrò forza. O forse sì. Vedremo. Comunque al minimo è 80. Devo decidere i giorni di programmazione. Perché voglio che escano cadenzati. Quindi uno sa che lunedì. Faccio un esempio. Non è una certezza. Uscirà il video. Lunedì, mercoledì e sabato. Buttate a caso. E niente. Così. Iniziamo a decollare anche qua. Devo capire come fare per sfruttare il fatto di avere un podcast. Un video e un blog. Per circolare i contenuti più che altro. E mentre guardo la webcam. E maneggio. Mi risulta difficilissimo non guardarmi. Perché vedere qualcosa in movimento. Chiama l'attenzione. Però ce la faremo. In tutto questo. Direi che abbiamo messo abbastanza cane al fuoco. Per oggi cosa dite. Sono soddisfatto. Devo lavorare su una cosa che mi dà un fastidio terribile. Ovvero le cover dei video. Mi fanno schifo. Quindi andate a vedere quello dell'episodio 1. Non starà là a lungo. Però è proprio brutta. E quindi. Magari metto il mio faccione. Che gli dà. Faccione con sfondo quadro. Basta. E tra l'altro non so neanche come fa. Ah mi faccio una foto dopo. Bella lì. Boh. Allora troverete il mio faccione. Forse. Non lo so. Ragazzi. Basta con le monate. Monate. Significa sciocchezze in Veneto. Ci sentiamo al prossimo video. L'episodio del podcast prossimo uscirà domani mattina. Quindi vi ringrazio. Vi aspetto per i prossimi video. E se volete condividere qualche idea. Qualsiasi cosa. Fatelo. Per favore ragazzi. Allora. Non vi romperò già le palle sul dire. Sottoscrivetevi. Cosa che tra l'altro ho fatto sul primo video. Se non ricordo male. Non lo farò. Se volete farlo. Fatelo. Non è ancora ora di rompervi per farlo. Votate il podcast però. Votate il podcast. Siamo fermi a sei. A sei. Sei recensioni. Siamo a 210 episodi. Sei recensioni. Mi sembra un po'. Che sia qualcosa. Come dice Bucattoni. Qualcosa che. Qual quadra non cosa. Bene. Basta. Però. Devo dire che. Mi piace proprio un sacco fare il video. Quindi. Ci divertiremo. Ragazzi. Buona giornata. Ci vediamo. D.H.L. è andato in via tranquillo. Cosa stava facendo il genio di Giacomo? Stava facendo. Stava pubblicando il podcast. Peccato che. Senza pubblicare il video. Veniva fuori una cosa che potrebbe confondere. Perché. Uno va sul canale. Lo cerca. Non lo trova. Quindi. Quindi. Sciocchezza di Giacomo. Ci vediamo.